Quinta vittoria consecutiva del Matese che non si ferma più. 2-1 il risultato finale e altri tre punti in classifica determinanti per la squadra matesina. Questa volta è stato il porto Sant'Elpidio a cadere sul terreno dello stadio Ferrante di Piedimonte Matese, ma mister Urbano sembra incontentabile nonostante la vittoria. Sentite che cosa ha detto al nostro Emilio Bianchi a fine partita. Allora, la fotocopia della partita di domenica scorsa? A direi di no, domenica scorsa abbiamo fatto molto meglio secondo me. Con tutto il rispetto per il porto Sant'Elpidio avevamo pure una squadra differente contro. Noi oggi abbiamo giocato secondo me al di sotto delle nostre possibilità. Di buono c'è aver messo tre punti in classifica, non siamo stati bravi nella gestione della partita, non siamo stati bravi nel momento in cui forse potevamo affondare di più. Il calcio è pericoloso, nel senso che se lasci poi una squadra che è in difficoltà, gli dà la possibilità di risollevarsi, poi devi soffrire, tra virgolette, perché poi grandi occasioni non hanno avuto neanche nella fase finale. Onestamente questo non mi è piaciuto dalla squadra. Domenica prossima ci sarà un'altra di queste sfide, diciamo quasi decisiva per il Mateso, perché superando anche l'ostacolo Aprilia, almeno il capitolo retrocessione viene messo da parte. Domenica sarà tutta un'altra partita contro un'altra squadra, squadra che è in salute, che sta facendo bene. Oggi è andata a vincere il recupero a Recanati, quindi se giochiamo con questo tipo di atteggiamento e con questo approccio domenica faremo fatica a portare qualcosa a casa. Più felice e ottimista invece è il centrocampista Mario Barone, pur ammettendo il calo dovuto alle tante partite ravvicinate. Eccoci col metronomo della squadra Barone, solo qualche patema d'animo finale. Sì, diciamo che avevamo da subito messo la partita, avevamo indirizzata come volevamo, solo che poi nel finale abbiamo sofferto un pochino, magari c'è stato un calo mentale, che non voglio giustificare perché bisogna stare sempre sul pezzo, soprattutto in questi periodi e soprattutto quando la stanchezza aumenta. Però magari dopo tante partite ci ha preso, non ho detto, magari ci è venuto un attimo questo calo, però l'importante era vincere e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Ecco, la quinta vittoria consecutiva, dove vuole arrivare questa squadra? La squadra deve guardare di partita in partita, deve pensare di domenica in domenica. Noi cerchiamo di fare il possibile per raggiungere quanto prima possibile l'obiettivo, che è quello della salvezza. Quindi cerchiamo di fare quanto più punti possibili ogni partita e poi vediamo dove arriviamo. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso e dei video bianchi per casertasera.it